L'incidente nel pomeriggio di venerdì 5 febbraio intorno alle 17.30 sulla strada provinciale 460 a Bosco Nero. Un furgone con piattaforma è uscito di strada ribaltandosi nel fosso che costeggia la provinciale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e Torino, le ambulanze della Croce Rossa di Rivarolo e il soccorso avanzato della Croce Rossa di Castellamonte. Il conducente, un 25enne di Rigny, è stato estratto dalle lamiere dell'abitacolo e dopo le prime cure è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco. Non è in pericolo di vita. La dinamica è al vaglio della polizia. Sulla 460 si è formata una lunga coda in direzione Torino a causa della marcia a senso unico alternato. Sulla 460 si è formata una lunga coda in direzione Torino a causa della roccia Rossa. Sulla 460 si è formata una lunga coda in direzione Torino a causa della croce Rossa. Sulla 460 si è formata una lunga coda in direzione Torino a causa della roccia Rossa. Sulla 460 si è formata una lunga coda in direzione Torino a causa della roccia Rossa. Sulla 460 si è formata una lunga coda in direzione Torino a causa della roccia Rossa. Grazie a tutti.